Il cardinale, l'imperatore, il re, l'ha messo rovinato e gli ha portato via un casteggiato di 32 che lui c'è. E' povero anche il bimbo, visto un vilano, un contadino. E' il contadino, l'ha messo rovinato, gli ha portato via un casteggiato, la casa in casinale, la moglie all'ospedale, il figlio militare, una vacca, anche un maiale, nel senso del purcelli. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridecchiava. Ma? No, il fatto è che noi dirà, che noi dirà. E' sempre allegri, bisogna stare, che il nostro fianco fa dal re. Fa male al ricco e al cardinale, diventano triste e noi piangere. E' sempre allegri, bisogna stare, che il nostro fianco fa dal re. Fa male al ricco e al cardinale, diventano triste e noi piangere. E' sempre allegri, bisogna stare, che il nostro fianco fa dal re. Siamo tutti i ragazzi che hanno recitato prima, che sono, eh dove sono? Vengano per favore, salite per favore a prendere gli applausi che avete meritato, venite. Sono da, venite, venite. Sei tu, tu non c'entri. Non hai fatto il tuo, hai applaudito, basta. Dove sono i ragazzi? Matteo Belli, Diego Carli, Gaia. La ragazza, sì. Sono già andati via? No, forse non riescono a raggiungere qui perché sono dietro, vediamo. Eccoli che arrivano, li vedo arrivare di qui. Ecco, di lì, di là, di lì. Matteo Belli, Gaia e Diego Carli in arte Suren. Eccolo qua, ecco, Suren. Eccoli qui. Bene, 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 super, bravo, complimenti, grazie, grazie. E l'orchestra, Dario. E l'orchestra. L'orchestra. Grazie a tutti, un bacio. Viva Branca! Mi hanno detto, mi hanno detto cento di questi giorni, non è possibile, ne basta uno. Grazie. Viva Branca! 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 Viva Branca!